non vi sento non vi sento ma che cazzo vuoi che ti dica pure io che cazzo ce ne fotte frank noi siamo la napoli che viaggia chi ci vuole ci segue noi siamo la napoli che viaggia lo che lo fa solo per passione non lucro solo passione merda e venire nella radio dei nemici è sempre un onore perché noi amiamo confrontarci frank darci il tempo di fare la diretta e cresceremo secondo me entro settimana prossima già siamo a 30 gioventile è merda grazie